Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberico Gambino, uno dei più attivi per quanto riguarda questa legislatura con oltre 30 proposte di legge presentate in consiglio regionale, una particolarmente importante per il territorio regionale anche per la provincia di Salerno, quella che riguarda il servizio idrico integrato. Una proposta di legge che lei ha presentato anche per quanto riguarda la nona legislatura e si è opposto a quello che è il testo presentato dall'Aggiunta. Sì, sarà discussa la prossima settimana in commissione questo argomento. Ci sono tre proposte in commissione, la mia proposta, poi un'altra presentata dal gruppo dei Cinque Stelle e un'altra presentata dall'Aggiunta, quindi dal governo regionale. Che a Donald è vero, ahimè, è simile, non dire, uguale a quella della passata proposta presentata dal governo Caldoro sul quale io fui fortemente oppositore allora perché ritenevo e ritengo, anche in virtù di quello che è il mio continuo e costante confronto con il territorio e con i cittadini, che bisogna assolutamente modificare tenendo presente quello che la legge nazionale ci impone di fare. Attraverso lo sblocco Italia si parlava di un auto unico regionale, così parla anche la mia proposta, però poi si parla di articolazione territoriale che devono essere minimo la provincia di appartenenza. Io ho presentato questa proposta di legge, mi auguro che queste mie considerazioni possano essere tenute seriamente in considerazione, in commissione perché c'è bisogno di cambiare qualcosa. Così come stanno le cose, così come la giunta regionale ha approvato la proposta di legge, non muove niente. In effetti qui nella nostra provincia resta tutto così com'è.